buongiorno sono emma vengo da dall'italia mi trovo qui in albania per problemi di denti come in italia non sono riuscita che mi hanno fatto soddisfare queste cose che sono venuta proprio qui per vedere un po se mi trovo bene sicuramente perché già dall'accoglienza sono stati bravissimi da quando arrivi dall'aeroporto ti vengono a prendere ti fanno vedere i loro laboratori ti danno la certezza di quello che stai facendo fai la consulenza con delle persone bravissime ti spiegano tutto se puoi fare questo lavoro o no inizio è un bel intervento che devo fare e faranno una sedazione cosciente io non sentirò nulla sono contenta di essere qui ho sentito parlare benissimo sono sempre sorridente è proprio vero viaggiare sorridendo